Stiamo in una tavola calda stile americano, ma in un mondo futuristico, e dei personaggi interagiscono tra loro in un modo casseggioso e divertente. Poco dopo inizia uno scontro a colpi di pistola e quattaggine. E già penso, ma che figata! Un'introduzione veramente epica che mi fa sperare in un simile Mass Effect o comunque un'avventura futuristica. E penso, oh, ma i personaggi ce stanno un botto. E anche quegli humor simile Borderlands, già penso al capolavoro. E niente, regà, è un FPS 5 contro 5 stile Overwatch. Ma vaffan... Salve nerdaccioni e benvenuti. Oggi parliamo un po' dello state of play. E sì, regà, ho voluto iniziare con una mia reaction di quello che ho vissuto con questo state of play. Di Concord già si sapeva qualcosa, ma non essendo appassionato a questo tipo di giochi, non ero informatissimo e sinceramente me l'ero dimenticato. Quindi in primis è colpa mia per non essermi informato. Comunque, per gli appassionati del genere, Concord sembra offrire un gameplay super tecnico e divertente. Io ci vedo molto un Valorant Mr. Overwatch, ma ci sono un po' di dubbi per il suo successo. Perché gli appassionati di Overwatch difficilmente si staccano. E non vorrei facesse la fine di Battleborn. Che Battleborn aveva un gran potenziale, purtroppo oscurato completamente da Overwatch. Ah, regà, Battleborn era una bomba. Questi sono giusto pensieri che vi espongo con trasparenza. Come ad esempio lo stesso Marvel Heroes, che è stato annunciato sempre allo state of play. Divertente, interessante, ma non so quanto possa aver successo. Per farvi capire, io pensavo che fosse già uscito. Eh sì, regà, decisamente non è un titolo che mi interessi. Però vabbè, magari a voi piace, quindi... Bella per voi. God of War Ragnarok insieme a Until Dawn arriveranno su PC. Questo ci fa capire quanto Sony stia spingendo nel mercato PC. E anche se il passato ha visto fare porting non troppo riusciti, con problemi tecnici e non solo, nell'ultimo periodo sembra che stia migliorando. Sicuramente hanno investito molti fondi a riguardo. Quindi daie, per chi possiede solo il PC, così potrà giocare anche altre esclusive PlayStation. E poi arriva Dynasty Warriors Origins. Imusù. Madonna quante ore ci avevo perso. Tra Dynasty Warriors e tutti i giochi manga con questo gameplay, mi sono sempre piaciuti. Però è oggettivo che questo genere ha perso tantissima utenza durante il tempo. E io stesso sono molti anni che non gioco a un titolo del genere. E regà, con questo graficone, mi è venuta tanta voglia di estermi la tonnellate dei nemici. Voglio il contatore di kill sopra i mille subito! Che dire regà, questo è un gioco che ispira a me e altri pochi. E questa cosa la capisco benissimo. Infinity Nicky. Quel gioco che giocherei con mia figlia. Se il PlayStation Plus me lo regala. Carino, coccoloso, e il gameplay ci mostra di voler essere molto semplice. Non credo che ci sia una sfida, ma sarà più un'avventura rilassante e pucciosa. I GDR sono uno dei miei generi favoriti. E ballando a Fantara, sembra un bel GDR fantasy. Ci hanno mostrato diverse classi, come Mago, Arciere, Lanciere, e chissà che altro. Poi il comparto grafico è decisamente affascinante. E l'ambientazione ha tutto quello che vorrebbe un fan del genere. Devo dire che il trailer è veramente ben fatto. Già mi ha conquistato. Un nuovo titolo che voglio subito. Ed eccoci con Neo 3. Ah no, non è Neo 3. Where Wines Meet. Sì regà, vedendolo pensavo che fosse Neo 3. E diciamo che ci speravo. Anche perché Neo, Neo, chiamatelo come vi pare, l'ho adorato. Ma comunque non sembra molto differente dal titolo del Team Ninja. Where Wines Meet ci mostra bossoni giganti. È un gameplay super dinamico. Un action souls like? Non so. Ma facciamola semplice. Sicuramente sarà un action GDR. Il lato artistico mi piace molto. E di questo titolo sicuro ve ne parlerò meglio. Purtroppo non ho il VR. E devo dire che con questi due titoli errosico un po'. Kidens Beamoth. Un GDR fantasy medievale in prima persona. E quindi come già vi ho detto prima eh mo giocherei subito. E il nuovo Alien. Altro gioco che in VR sicuramente ce farà cacassotto. Quindi belle chicche per i possessori di VR. Comunque forse è arrivato il momento di comprare a me sto VR eh. Vabbè. Poi Sony con questo state of play dice Che bollo sai che c'è? Te faccio smettere di fare i video. Eh sì perché mi presenta un bel ciuccia tempo. Path of Exile 2. Il primo capitolo mi era piaciuto veramente un sacco. Anche perché quando uscì era più Diablo Lui che Diablo 3. Con questa ambientazione oscura il gameplay, le musiche. Per chi è appassionato del genere era veramente ben fatto. Ho paura di provarlo devo essere sincero. Perché non vorrei smettere di avere vita sociale. Che lo stesso vale per Monster Hunter Wilds. Altro annuncio che mi fa dire ma Sony ma proprio vuoi vuoi che io non faccia più nulla nella vita. Monster Hunter è uno di quei giochi che mi fa veramente paura. Perché Monster Hunter World veramente avevo smesso di vite. Mi ricordo benissimo che mi dicevo Vabbè Keb oggi una caccia e poi a nanna. E niente passavano cinque ore e non me ne accorgevo. Però ecco Poi vedi questo trailer E come fa a non volerlo giocare? Gameplay ancora più solito di prima ambientazioni fantastiche I mostri Madonna regà Le belve so di una bellezza unica E anche la storia sembra molto interessante Ma sappiamo tutti che non è la storia proprio quello che ci interessa di più. Regà come vedete dal video penso che non debba dirvi nulla È una bomba Silent Hill 2 arriva a ottobre Periodo perfetto per un horror La grafica ve la aspettavo un po' migliore E anche il gameplay Pensavo fosse meno legnoso Ma ragazzi stiamo parlando di un trailer Quindi queste impressioni So aria fritta Tanto la cosa che ci importa È l'ansia E credo proprio che riuscirà a trasmettercela E regà di base Lo volevamo da tempo un Silent Hill E dopo 12 anni Finalmente arriva Quindi Quello che mi so detto è molto semplice Keb stai zitto Muto E gioca Va bene Veniamo con Astrobot Il robottino ritorna più colorato di prima Regà Un bel platform In un mercato dove si punta a chi c'ha la grafica più grossa Un po' come quello che succede in uno spogliatoio maschile di calcio O nei social a chi se fa la foto chi è più figa Qualcosa di semplice Così è proprio quello che ci vuole Tanti easter egg del mondo playstation E tanto divertimento Io tante volte preferisco decisamente dei giochi di questo tipo Un po' becchi a scuola Ma con un bel comparto artistico E tra boss, livelli E regà Secondo me Sarà bello divertente questo Astrobot Merdaccioni Questi sono i giochi che sono stati annunciati allo state of play Direi che Ci sta robetta interessante Lo sapete Qua a me non piace fare polemiche O dire Mi è piaciuto questo state of play Come i bambini viziati No Non me va Quindi Beh dico semplicemente quello che c'è Poi Vi piace o non vi piace Sta a voi no? Siamo tutti un po' adulti Comunque Se vi è piaciuto il video Lasciate un like Iscrivetevi E commentatemi Su quello che aspettate di più Tra questi giochi Dai che so curioso Detto ciò Ci vediamo al prossimo video Un saluto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.